Beh, ho imparato che commisse quando sono arrivato e c'era una grande voglia di fare bene come io voglio, come anch'io, scusi. Ho trovato una squadra che ha voglia, poi ha voglia anche di riscato perché ho visto un po' che la prima partita è andata male e sicuramente è quello che voglio in quest'anno, voglio fare bene, voglio una squadra che vuole fare bene e quindi penso che l'ambiente è giusto. Ma di mister cosa ti ha chiesto? Beh, il mister vuole che, diciamo, per una prima punta adesso perché praticamente possiamo, può essere che domani cambia un po', vuole praticamente che attacco la porta quindi per me è meglio ancora. Però tutto il ritiro ho fatto lavoro diverso, praticamente tutto al contrario, però per me è meglio. So che non sto fisicamente al 100% ma si scenderà in campo, cercherò di dare tutto, tutto quello che ho nelle gambe e cercherò di dare tutto. Purtroppo sono stato 20 giorni fermo, si fermo completamente e sono orientato settimana scorsa e quindi vabbè il lavoro lungo l'ho fatto tutto, però i lavori stretti so quello che fai più fatica mi manca quindi ci vuole un po', sicuramente le partite, allenamenti, inizio a ritrovarti quindi non penso che ci vorrà tanto. Purtroppo sono stato 20 giorni fermo, quindi non penso che ci vorrà tanto. Continuo. Purtroppo. Purtroppo. Purtroppo.